Secondo me per fischiarmi un rigore a me mi devono abbattere, l'anno scorso a Genova mi hanno abbattuto ma non mi hanno fischiato. Questa volta stavo calciando, mi hanno tolto l'appoggio e il piede era sulla riga quindi la nera di rigore poteva intervenire. Questo rigore finale secondo me è un po' un'esagerazione perché comunque Bade corre verso fuoriare, si butta quasi in scivolata e non va per controllare il pallone ma va soltanto per toccarlo e si è buttato quasi in gamba tesa su Caicedo che va a calciare, c'è una situazione veramente al limite, secondo me il VAR dicono sempre che non deve intervenire in queste situazioni dove sono al limite, sono le situazioni chiare, secondo noi non è una situazione chiara, è una situazione dove bisogna fare andare avanti il gioco perché se no così allora fischiamo tutti i rigori in aria. Dispiace perché comunque potevamo portare a casa tre punti che per noi erano fondamentali, però dobbiamo ripartire da qua, comunque muovi la classifica, vai avanti e pian pianino dobbiamo cercare di capire anche perché non siamo riusciti a chiudere la partita perché abbiamo avuto anche qualche spazio nel secondo tempo di ripartenza e non siamo stati bravi a sfruttarlo.